Tutto quello che è accaduto nel corso di questi mesi ha bloccato il sistema sanitario e oggi è complicato garantire il diritto alla salute perché molte persone aspettano le prestazioni che per tre mesi sono state completamente bloccate, penso agli accertamenti diagnostici, alle analisi con i copi chiusi e quindi già questa è una grande preoccupazione che colpisce specialmente gli anziani e poi noi poniamo al centro dell'attenzione una svolta rispetto alla centralità del territorio. Il punto di debolezza di tutto quello che è accaduto durante il Covid è proprio la mancanza di strutture sul territorio, quindi noi chiediamo assistenza domiciliare per garantire il diritto degli anziani ad invecchiare in casa perché quello che è accaduto nelle case di riposo è agghiacciante. In Puglia abbiamo avuto 111 morti nelle case di riposo su 540 complessivi, quindi è un rapporto molto alto. La casa di riposo, la residenza sanitaria assistita non può rappresentare la scelta prioritaria. Gli anziani devono poter vivere a casa con un sistema di assistenza domiciliare efficiente. Si possono utilizzare le risorse che il governo mette a disposizione, quelle che potranno avvenire dal MES, con la nuova programmazione, ma bisogna investire dando la possibilità di potersi curare senza ricorrere all'ospedale, sapendo tutto quello che è accaduto negli ospedali e con i rischi a cui gli anziani sono andati incontro. Quindi noi vogliamo un sistema a misura di anziani, perché gli anziani rappresentano una parte consistente della società. In Puglia sono 850 mila, sono il 25% della popolazione, non possono essere marginalizzati e a volte, come è successo, addirittura diventare le vittive sacrificali perché purtroppo durante il Covid si è dovuto scegliere a volte se salvare un giovane e un anziano e quindi si è deciso in base all'età anagrafica, con una penalizzazione per gli anziani che è agghiacciante e che crea un grande disagio, una grande preoccupazione e noi vogliamo che da questa preoccupazione ci sia una svolta vera nella sanità pugliese.